Fai giocare a casa? Come quando eravamo piccoli. Bene, perché ieri mamma e papà hanno fatto una grande litigata. Ti ricordi che mamma deve sempre essere gentile con papà. Com'è andata la tua giornata, caro? Non avrei mai dovuto dare il lavoro alla tua sera alla tua amica come segretaria. Ma lei te ne è molto grata. Grata? Quella va in giro a raccontare storie su di me. Dice che io faccio cose terribili. Io, un uomo importante di chiesa come me. Ma che cose dice? Dopo tutto quello che ho fatto per lei. Tu troppo piccolo per capire. L'amica di mamma va in giro a parlare male di papà in chiesa. Dice cose brutte. Cose che fanno i grandi. Che fa stare male una persona. Ma no, non lo farebbe mai. Papà è una persona brava. E che cosa dice? Ecco che cosa si ritrova il buon Saramaritano per aver aiutato. Stavo solo cercando di essere gentile. Ma che cosa hai fatto? La tua amica è una bugiarda. Ma perché gridi così? Mamma non deve mai far arrabbiare papà. La tua amica ha mandato in giro una lettera alla chiesa dicendo a tutti che sono maleducato. Che dico cose brutte. Che l'ho toccato in un modo inapropriato. Ed è vero. Ma certo che no. Ma perché dovrebbe inventarsi queste cose? Tu dovresti stare dalla mia parte. Insomma, siamo sposati. Viva bambola, ma non farebbe mai. Ma per favore dimmi la verità. Le ho solo dato una pacca amichevole. Quando le ho detto la mia barzelletta preferita. Oh, non le avrai mica raccontato la barzelletta della persona con segredere grande. Che c'è? È buffa. Fa sempre ridere tutti. E la mia amica ha riso? La tua amica ha dei problemi. È sempre gelosa degli altri. Beh, forse perché tu non la paghi poco. Perché gli altri si meritano di più. Ma sentiti. Eh, che cosa vuoi? La vita è ingiusta. Bambolina non capisce. Le piccole persone non devono lamentarsi. Le piccole persone non devono mai mettere le grandi persone in imbarazzo. Tu non stai ragionando in modo giusto. Non ti permettere di andare via. Torna subito. Smettila di urnarmi così. Sono io che ti ho messo un tetto sopra la testa. È così che parli alla mia segretaria. Oh, per favore. Perché voi fate sempre le vittime così. Se parli con la mia segretaria... non ti prenderò mai più indietro. Mai più. No, non avere paura. Sì, sì, sì. La mamma verrà a prenderci. No, la mamma non tornerà. Non fino a quando papà non ammette tutto quello che ha fatto. No. Dire scusa non basta. Non fa passare tutto. No. No, non so che cosa succederà. Non. Non.